A tutti voi una cordiale buona serata, bentrovati con Sanità Benessere Oggi. Un anno nuovo, ricominciamo dunque i nostri discorsi legati al dispositivo medico gondola, l'avete letto nel titolo, sintomi motori del Parkinson, il trattamento con il dispositivo medico gondola. Io do il benvenuto, il ben ritrovato agli ospiti di questa sera, dottor Stefano Tassin, buonasera, direttore scientifico del gondola Medical Technologies di Lausanna, Chiara Previati, buonasera, bentrovata Chiara. Buonasera, grazie. Terapista della riabilitazione al centro La Panacea a Copparo. E ovviamente in studio con noi la gondola, nelle due versioni, quella professional e quella home. I discorsi di questa sera partono proprio dalla malattia di Parkinson. Abbiamo imparato lo scorso anno a mettere un po' da parte la parola morbo, ma a riferirci al Parkinson come malattia. Il Parkinson però appunto non è solo un Parkinson, ci sono tanti tipi di Parkinson, ma soprattutto sono i pazienti che a seconda della persona manifestano il disturbo di Parkinson in maniera diversa. E allora, dottor Tassin, incominciamo proprio i nostri discorsi spiegando la malattia di Parkinson e poi conosceremo il dispositivo medico gondola. Sì, la malattia di Parkinson in realtà è il contrario di quello che si possa immaginare. Non è la malattia dei pazienti che tremano, ma è una malattia che porta un disordine generale nel movimento del paziente. Si manifesta in maniera abbastanza subdola, inizialmente è molto difficile riuscire a fare diagnosi di Parkinson perché i sintomi sono a volte diversi da quello che uno si aspetta. Normalmente uno pensa che il nonno, piuttosto che il papà, incomincia a tremare con la mano sinistra e può essere uno specchietto per riuscire a capire quale tipo di malattia. Ma in realtà non è così. Inizialmente la malattia spesso si nasconde dietro dei cambi di umore e delle piccole difficoltà, più che difficoltà, delle lentezze nei movimenti. E da lì chiaramente una serie di accertamenti che sono sicuramente diversi dal pensare a un problema neurologico che vengono affrontati prima di riuscire ad arrivare a una diagnosi. La malattia di Parkinson è una malattia del sistema nervoso centrale, è una malattia per qualche motivo a noi sconosciuto, incomincia a non creare più una sostanza che si chiama dopamina. La dopamina è una sostanza estremamente importante nel nostro cervello che tende a aumentare la velocità di conduzione dei nostri neuroni e quindi a favorire il nostro movimento. Quando questa sostanza tende a ridursi, incominciamo ad osservare dei movimenti goffi. Come dicevo prima, un rallentamento del movimento piuttosto che incominciamo ad avere delle turbe generalizzate. Una deflessione del tono dell'umore, una gamba o l'altra che tende ad essere un po' più lenta rispetto alla contrapposta, o un braccio che tende a rimanere fermo nella dell'ambulazione. Questa è un po' in linea generale la malattia di Parkinson. Ecco, per esempio in una delle ultime puntate abbiamo avuto la testimonianza di un paziente che ha diciamo incominciato il suo percorso di diagnosi dal fatto di non riuscire più a scrivere semplicemente. Sì, perché in realtà inizialmente, a parte la deflessione dell'umore, possono incominciare ad apparire questi sintomi molto meno evidenti. Dunque i movimenti fini e precisi tendono ad essere un po' difficoltosi. Però non è sempre così, perché sarebbe facile, allora a un certo punto incomincio ad avere una deflessione dell'umore, ti faccio scrivere una frase, ti scrivi male, Parkinson, non è proprio così. Diciamo che anche quello può incidere in una seconda parte di sordio di malattia, questo tipo di complicanza. Però di base si incomincia con dei movimenti grocciolani che tendono ad essere diversi dalla contrapposta. Ecco, noi questa sera appunto ci rivolgiamo al pubblico per raccontare, per spiegare quali sono le novità in campo tecnologico, in campo scientifico. Una tra tutte, la principale, se vogliamo, è proprio questa, il dispositivo medico gondola. Com'è nato questo dispositivo? Nasce da un'esigenza importante nel mondo della malattia di Parkinson. La malattia di Parkinson da 80 anni è questa parte e viene gestita normalmente con dei farmaci dopaminergici, cioè sono dei farmaci eccitanti che tendono a prendere il posto della nostra dopamina per cercare di aumentare la velocità di movimento dei nostri neuroni. Purtroppo tutto questo non basta, nel senso che anche se la dopamina la fa da padrone, ancora oggi i pazienti parkinsoniani utilizzano dopaminergici, dopo 4-5 anni da questi tipi di farmaci incominciano ad arrivare delle turbe molto severe. Si chiamano off-farmacologici, cioè io assumo il farmaco, in prima istanza dopo un quarto d'ora, 20 minuti mi fa effetto, ma dopo 4-5 anni di assunzione in realtà questa cosa non succede più, o perlomeno succede molto meno. Ossia incomincio ad avere degli effetti collaterali dal farmaco stesso, che a volte sono più brutti della malattia stessa. La maggior parte dei pazienti che incominciano la terapia per il Parkinson sono soggetti a stipsi, sono soggetti che hanno delle problematiche a livello digestivo, sono dei soggetti che possono alterare il loro umore. E via dicendo, andando poi, è vero, magari inizialmente migliorano la qualità motoria, ma il paziente cambia aspetto, non è più il signor Luigi, ma incomincia a diventare un'altra persona. Perché? Perché tutto quello che fa a livello motorio è un po' incentivato da un farmaco. E quindi il paziente si trova in un corpo che fa sempre più fatica a gestire il movimento, fino ad arrivare alla seconda parte di malattia, che è quella dopo i 5 anni, che incominciano ad avere questi off-farmacologici, cioè l'effetto della dopamina incomincia a diventare sempre più corto, l'assunzione mediamente sui pazienti Parkinson ogni tre ore, ma io prendo la dopamina alle 8 alla mattina, mi fa effetto alle 9, e alle 11 devo già prendere un'altra. Quindi incominciano ad arrivare questi off dove nell'ora dove il farmaco non fa effetto, avrà un blocco motorio più o meno severo. Quindi se uniamo tutte queste ore di blocchi motori severi, abbiamo un paziente che 6-7 ore al giorno si trova in una condizione di disagio motorio. Questo favorisce le cadute e aumenta notevolmente l'adrenalina che viene incentivata dalla paura, limita in maniera estremamente importante la sua capacità motoria, tende a sedersi e per seconda istanza arriva alla depressione. Questo è un po' il quadro generale della malattia di Parkinson. E quindi diciamo una prospettiva di vita down, che quindi va a incalare. Una prospettiva di vita down, senz'altro, e soprattutto il problema è che il Parkinson non è più la malattia dei pazienti della terza età, che per l'amore di Dio, con tutto rispetto, ma se io incontro il morbo di Parkinson a 82 anni, tutto sommato fino a 87 anni il farmaco gestisce bene, e giù di lì la mia vita l'ho fatta. Il vero problema è che i Parkinson adesso stanno cambiando rotta e noi vediamo tantissimi Parkinson, così vengono detti i Parkinson giovanili, diciamo dai 45-50 anni in su. Quindi un paziente che ha 45 anni viene diagnosticato il morbo di Parkinson, a 50 anni è un malato. Ovvio. E quindi se non ha delle strategie terapeutiche per migliorare la qualità di vita, la vedo dura, vivere in maniera serena tutti gli altri anni che gli rimangono da vivere. Quindi questo succede perché la malattia è lenta ma inesorabile, dunque lei continua a fare in modo di ridurre la dopamina, e nel mondo medico si aumenta la dopamina man mano che ne hai bisogno perché ne hai meno. Come dicevo prima, più dopamina prendi, più effetti collaterali hai. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi assumiamo la dopamina sin dall'inizio, che abbiamo un giovamento importante, è perché i recettori della dopamina sono tutti attivi. Quindi la malattia ha preso soltanto una piccolissima area, che noi conosciamo molto bene, in realtà sono tre le aree, ma caricando di dopamina tu incentivi non soltanto quell'area a funzionare, ma iperattivi tutta l'area del cervello che non vuole la dopamina, ma noi gliela diamo perché non abbiamo un farmaco che arriva sì lì, abbiamo un farmaco che arriva nel cervello. Quindi questo luna di miele di 4-5 anni è dettato proprio dal farmaco stesso. Cioè in realtà per far bene a una persona per un piccolo periodo di tempo in realtà poi la paghi con gli interessi. Osservando il cervello di questi pazienti si osserva che nonostante la dopamina le aree motorie con risonanze magnetiche funzionali comunque non rimangono attive. Tendono a spegnersi velocemente. Quindi bisognava capire come fare a incentivare queste aree a rimanere accese. Gli americani circa 35-40 anni fa si sono inventati un impianto cerebrale che viene chiamato the brain stimulation. Ci sono degli stimolatori, due elettrodi di circa 7 cm, che vengono inseriti trascranico a livello del talomo in modo da portare corrente, cioè incentivare queste aree motorie a rimanere accese. Purtroppo i benefici che danno questo tipo di impianto, che come potete immaginare è molto invasivo, sono limitati nel tempo. Ossia i primi casi che sono stati fatti hanno avuto un'evoluzione sicuramente significativa a livello di tremore. Però è soltanto una piccola parte di pazienti che trema, perché il vero problema del Parkinson è il movimento, non il tremore. Ci sono mille forme di tremore diverse. Quindi ai pazienti a suo tempo impiantati per il tremore sicuramente hanno avuto un netto miglioramento delle performance a livello di tremore, ma come effetto collaterale, ancora una volta finisce la luna di miele sempre questi 5 anni, dopo 5 anni di impianto si è notato che c'è un netto peggioramento dal punto di vista motorio. Cioè i pazienti continuano a non tremare, ma tendono a diventare pazienti accinetici, cioè come il resto del gruppo dei pazienti accinetici che è più dell'80%. Per incapacità o per non volontà di muoversi? Perché si è visto che andare a stressare delle aree motorie in maniera costante non è un peacemaker che entra in gioco quando serve. Lì è una corrente costante e si è visto che nelle aree dove la corrente va tende a creare una cronicità e questa cronicità col tempo tende a dare questo effetto. Quindi ancora una volta 5 anni di effetto positivo su un paziente che non è capace di mangiare da solo perché trema tantissimo, sono tanti, ma poi devi fare il conto con il resto della vita. Con gli effetti collaterali appunto. Quindi abbiamo visto che stimolare il cervello in maniera costante a volte funziona, ma nella maggior parte delle volte no. Poi gli americani hanno provato a impiantare lo stesso impianto sui pazienti non tremorigeni per vedere se effettivamente utilizzando delle altre aree motorie da stimolare potevano avere un successo terapeutico. Purtroppo lì sono marginali i miglioramenti perché tendenzialmente promettevano adesso non più che nel momento in cui l'impianto viene ben posizionato il paziente come vantaggio terapeutico aveva una netta riduzione dei farmaci. Oggi questa cosa qua non viene più detta perché comunque il farmaco lo prendi comunque e 8 volte su 10 nella stessa quantità che lo prendevi prima. Quindi anche qui si fa un po' di scouting cercando di migliorare la qualità di vita ma grandi risultati noi non ne abbiamo visti. Per quanto riguarda invece la riabilitazione tradizionale come ben sapete su tutti i territori europei ci sono questi centri di riabilitazione atti a cercare di mantenere attivo le aree motorie del cervello creando delle ginnastiche ad hoc. Ma anche lì spesso e volentieri c'è un grande fallimento dal punto di vista riabilitativo perché dobbiamo comunque partire dal presupposto che la malattia di Parkinson è una malattia del cervello non del corpo. Quindi i muscoli si muovono male quindi l'atteggiamento è goffo perché la centralina funziona poco. Quindi diciamo la rivoluzione è proprio cambiare l'approccio. La rivoluzione è stata osservare in realtà noi quando ci muoviamo in generale è molto sommatorio quello che sto dicendo però non entrando nello specifico noi consumiamo benzina. La maggior parte, si è visto che la maggior parte della benzina che viene utilizzata come sforzo del nostro cervello è muovere le nostre gambe perché il cervello è molto in alto le gambe sono in fondo e quindi elaborare un meccanismo tale che porti un movimento corretto sui nostri piedi e sulle nostre gambe è sicuramente un dispendio di benzina importante. Quindi focalizzandoci su questa cosa abbiamo cercato di capire come far consumare molto meno benzina nel cervello dando uno sprint maggiore al nostro movimento. analizzando questo lavoro che viene fatto in neurofisiologia chiaramente che è lo studio che studia l'effetto cervello i nostri nervi fino ad arrivare a livello spinale a livello periferico fino ad arrivare alle nostre periferie. Abbiamo visto che tantissima benzina veniva utilizzata sul piede il paziente parkinsoniano quando cammina tende a camminare col piede piatto e questo è un qualcosa che probabilmente noi come gondola come ricerca siamo stati i primi a osservarlo era sotto gli occhi di tutti ma a volte le banalità non vengono non vengono osservate quindi una delle cose che raggruppava questi pazienti come qualcosa di simile era basato sul fatto che il paziente andava a tassico cioè noi quando camminiamo appoggiamo il tallone poi il latero piede e poi l'antero piede e facciamo il passo opposto. Nei pazienti parkinson questa attività motoria non c'è è quello che dicevo prima perché costa tanta benzina e quindi il paziente si limita a camminare un po' con i piedi piatti camminando con i piedi piatti però porta sicuramente in stabilità il cervello ne ha paura perché dice o cammini in un certo modo io mi sento qui in alto stabile ma se tu continui a camminare in questo modo io per farti rallentare metto adrenalina aumento la paura e tu cammini lentamente è un po' il cane che si mangia la coda quindi abbiamo scoperto due punti importanti che sono la testa dell'alluce che rappresenta la parte più lontana del nostro corpo e la base del primo metatarso che è sempre sull'alluce che rappresenta lo sforzo di levatura nel nostro passo andando a incentivare creando uno stimolo non elettrico ma uno stimolo meccanico in queste due aree motorie si è visto che il cervello tende a illuminarsi e a mantenere la qualità motoria da lì abbiamo incominciato a lavorare per tanti anni sulla possibilità di riuscire a stimolare il piede destro e sinistro con una certa forza una certa sequenza fino ad arrivare all'ottimale che è oggi dove una terapia che il paziente va in ambulatorio a provare per provare la visita di un'età una terapia molto veloce perché i medici o i operatori del settore posizionano il dispositivo al piede del paziente e in due minuti di terapia che è estremamente veloce possiamo già apprezzare se esistono dei netti dei buoni o dei netti miglioramenti sulla performance motoria e allora la curiosità sul cosa succede dopo la stimolazione con gondola noi ce la togliamo dopo una brevissima pausa pubblicitaria restate con noi perché adesso entriamo veramente nel vivo di quello che è e che fa il dispositivo medico gondola state con noi Ed eccoci tornati in studio stiamo affrontando i temi legati ai disturbi del movimento dovuti alla malattia di Parkinson e questa sera vi abbiamo reintrodotti all'interno del mondo dell'universo gondola questo dispositivo medico che è stata la vera rivoluzione nell'approccio alla malattia di Parkinson il dottor Tassin ci ha fatto una introduzione spettacolare su quello che è proprio il mondo Parkinson a partire quindi dalla malattia dai problemi generati dalla stessa e dal trattamento innovativo che quindi si concentra sulla stimolazione meccanica in due punti fondamentali del piede noi adesso siamo curiosi a casa sicuramente più di noi di conoscere come questo dispositivo va proprio ad agire sul paziente la semplicità d'uso dello stesso e la brevità del trattamento abbiamo già sentito dire appena un paio di minuti Chiara la parola passa a te perché sei tu che tutti i giorni operi e ti trovi anche a confrontarti con tante tipologie diverse di pazienti prima di arrivare a loro però partiamo proprio dal meccanismo dal funzionamento di questo dispositivo noi qui in studio ne abbiamo di due tipologie quella un po' più complessa che è proprio quella che ti trovi in studio tutti i giorni a manovrare che va appunto a posizionarsi di volta in volta su un piede diverso e la definitiva quella insomma home come l'abbiamo definita quella che poi viene consegnata al paziente perché ricordiamo ogni paziente poi avrà la sua gondola quindi ogni gondola nasce viene disegnata sul piede del singolo paziente quindi raccontaci magari chiedo anche alla regia un aiuto di tipo visivo su come un paziente X in questo caso è un'operatrice utilizza lo strumento intanto Chiara spiega e noi vediamo proprio il funzionamento di gondola certamente allora il dispositivo ha un funzionamento molto semplice perché appunto sono queste pressioni che vengono fatti su questi due punti specifici e sono solo quelli che funzionano funzionano e hanno questa azione di risvegliare queste aree motorie per ripristinare determinati movimenti che sono quelli spontanei che il Parkinson purtroppo riduce quindi abbiamo detto la testa dell'alluce la testa dell'alluce è sotto il metatarso il primo metatarso vengono fatte delle pressioni particolari che sono singolari per ogni singolo paziente perché ognuno ha la sua sensibilità e ognuno ha il suo punto di stimolazione e qui sta nella sensibilità dell'operatore arrivare al punto giusto che viene trattato per ogni singolo paziente qui vediamo nel video il dispositivo home quello che viene dato a casa al paziente dove l'operatrice ovviamente sta facendo vedere come collegare le due gondole che funzionano in sincrono che hanno una particolare sequenza di stimolazione e quindi devono essere collegate assieme devono essere posizionate in un determinato modo in modo tale che l'angolo del ginocchio sia in 90 gradi la posizione del piede deve essere alloggiato in maniera naturale all'interno della gondola i punti di stimolazione vengono già sistemati all'interno del plantare e vengono tarati nei punti effettivamente di stimolazione di ogni singolo paziente qui vediamo i due pulsanti che ci sono sopra il dispositivo sono due e sono semplicissimi per cui il tasto azzurro accende il dispositivo il tasto rosso spigne tutto quanto la macchina per far attivare la stimolazione ovviamente la prima volta che si spinge il pulsante azzurro la macchina si accende per far partire la stimolazione si deve spingere un'altra volta quindi questo è quello che il paziente deve fare a casa per utilizzare gondola quindi la parte più tra virgolette complessa è quella di imparare a calzarla e quindi ad infilarci dentro il piede questa è la parte più difficile diciamo che il paziente deve fare poi tutto il resto ci messa la macchina perché poi la tariamo noi la sistemiamo noi e quindi viene consegnata in modo tale che sia assolutamente perfetta per il paziente può succedere che non funzioni adeguatamente? allora nell'arco del primo mese di utilizzo sì almeno per quello che è l'esperienza che porto perché c'è sempre un'istruzione da parte del paziente deve imparare ad usarla deve imparare a sentire i punti di stimolazione quindi non ci si deve spaventare se magari sui primi momenti la cosa non è ad hoc non è perfetta ci serve proprio questo lasso di tempo per poi rimpostare tutto quanto e trovare proprio il settaggio perfetto dopodiché lui se la utilizza e non ci sono più problemi se proprio ci dovesse essere ancora qualcosina da correggere noi siamo sempre a disposizione e quindi basta solamente che ci chiamino e riguardiamo il tutto rivediamo in modo tale che sia tutto il più preciso possibile in modo che l'azione poi di gondola su quello che è il paziente sia nel top nella migliore condizione ecco quello che viene consigliato ecco un paio di volte all'anno ecco di rivederci per rivedere un attimo i settaggi magari il piede potrebbe anche modificarsi negli anni assolutamente ma soprattutto inizialmente quando il paziente comincia a camminare diversamente e quindi quando riprende una motricità che è leggermente diversa rispetto leggermente che è completamente diversa al piede piatto che abbiamo sentito prima esatto esatto può essere che ci sia qualcosina da andare a rivedere quindi il piede dinamico è una struttura che può cambiare può succedere anche che magari ci sia una luce valgo che peggiori e quindi ci sia il bisogno di rivedere un attimo ma ecco è tutto rivedibile è tutto ritarabile esatto possiamo tranquillamente riaggiustare il tutto e anzi se c'è qualche cosa che non va è bene che il paziente chiami lo rivediamo tranquillamente sì che non stia zitto magari a vedere che le cose non succedono ecco questo è un qualche cosa che ci tengo a dire perché molto spesso per paura di non so di disturbare oppure di magari non so che cosa non esser giudicati incapaci esatto magari non si fanno sentire e scopriamo che magari la cosa non andava proprio bene è bene chiamare prima che non che non dopo ecco questo lo diciamo anche a casa a tutti i già utilizzatori di gondola se c'è qualcosa che non va chiamate chiara o fatevi insomma sentire dal centro più vicino assolutamente perché è necessario che il dispositivo sia tarato perfettamente e che funzioni a dovere ecco insomma noi torniamo un attimo al video che stavamo osservando prima perché una volta trascorsi questi due minuti cosa succede abbiamo allacciato anzi togliamo spegniamo togliamo spostiamo le gondole dalla posizione anteriore e dobbiamo aspettare i nostri due minuti in modo tale da far sì che il nostro sistema nervoso riprenda e capisca ecco che è stato cioè due minuti sono pochi e quindi deve realizzare che è successo qualche cosa una volta quindi due minuti di stimolazione più due minuti di pausa successiva esatto nel frattempo possiamo rinfilare le calze le scarpe ci prepariamo e così via passati due minuti l'altra cosa estremamente importante è quando si parte da seduti ci si alza in piedi e si fanno i due passi famosi due passi lunghi ecco questo perché perché dobbiamo ripristinare i normali schemi di movimento del passo e gli diamo l'incentivo a dire possiamo fare un passo più lungo rispetto a quello che facevamo quindi è come se istruissimo il cervello a dire puoi fare fin qui ovvio che non camminiamo così tutti i giorni però questo è il nostro potenziale come dici tu quindi il tuo passo potrebbe essere questo da questo a star fermi uno poi insomma trova la quadra esatto esatto ma sono molto importanti perché questo proprio ripristina i normali schemi e l'altra cosa fondamentale quando riprendono a camminare da fermi quindi che siano seduti che siano in piedi che ripartono e rinnescano la marcia il primo passo deve essere lungo un po' più lungo magari non lungo come questi qui più del normale passo in modo da ridire nuovamente il nostro sistema nervoso che può fare un passo più lungo e quindi soprattutto sollevare il piede sollevare il piede e rinnescare una marcia più corretta che non è la marcia ginocchia flesse e piedi qui abbiamo un prima e dopo il trattamento è straordinario quello che vediamo lascio sempre a te la parola perché è un tuo paziente siamo all'interno del tuo ambulatorio ecco il famoso piede piatto il prima sì qui abbiamo un freezing molto importante della marcia e vediamo proprio che cosa significano i passettini piccoli del Parkinson e l'inceppo e l'incollamento dei piedi a terra il ginocchio non viene sollevato non viene fatto il passo la rullata e tutto quanto e per fare 10 cm 1 metro è veramente uno sforzo enorme da parte del paziente e ci mette veramente tanto tempo con il rischio di cadute perché ovviamente quando il piede rimane l'incollato provano tutte le strategie possibili immaginabili quindi molto spesso si proiettano in avanti con il tronco e il rischio delle cadute lì è abbastanza elevato sì è molto importante nel dopo vediamo effettivamente quello che gondola fa sul subito 3 minuti dopo che abbiamo fatto il trattamento 2 minuti di trattamento più 3 minuti quello è il risultato sul freezing della marcia è il passo nettamente più ampio il piede che riprende la rullata e quindi l'appoggio del tacco la pianta e la punta quindi la spinta in avanti e questa è un passo e una camminata normale certo soprattutto anche agli occhi della gente che ci guarda da fuori ci sentiamo sicuramente più sereni a camminare di nuovo bene piuttosto che andare in giro e sapere di avere a che fare con un freezing da un momento all'altro o addirittura un passo incerto assolutamente sì anche perché il fatto di avere una una spontaneità e una naturalezza nel camminare rende più fiducia nel paziente gli fa riprendere quelli che sono anche gli stimoli per uscire per ritornare nella vita quotidiana per ritornare nella società e questo è importantissimo e questo è importantissimo vediamo un altro dei tuoi pazienti qui è Sergio che appunto anche lui aveva una festinazione molto importante e lui già dalla prima seduta ha avuto una risposta a un risultato evidente incredibile evidente sì infatti io mi ricordo che era la seconda seduta se non sbaglio quindi aveva già ancora un po' della era rimasto un pochettino dell'effetto della prima seduta e poi dopo e poi dopo per lui è stata è stata una cosa estremamente importante perché è ritornato a fare la sua vita di tutti i giorni è tornato a giocare con le sue nipotine io me lo ricordo perché tra l'altro Sergio è stato anche nostro ospite e lo saluto e anzi il paziente che avete visto prima Davide lo invito se ci sta seguendo a venirci a trovare perché ogni volta dietro a un paziente c'è una storia bellissima addirittura Davide era un pilota ad aerei quindi insomma ha stravolto la sua vita in questo caso Sergio è tornato a giocare con i suoi nipoti è andato a fare colazione è tornato a fare colazione al bar sono quelle davvero cose piccoline che però ci riempiono di nuovo il cuore di gioia ci fanno tornare a vivere sì sì la cosa è proprio che riprendono anche proprio il lato emotivo a rivivere a rivivere sono ritornati proprio ad avere la voglia di rimettersi in società in società star con gli altri stare con gli altri e tutto quanto fare fare abbiamo detto la depressione che arriva nel non fare a furia di non fare ma proprio lo sentono internamente quando fanno almeno mi è capitato ecco ultimamente proprio un paziente mi riferiva proprio questo mi sento bene quando la faccio cioè è un qualche cosa che non fa non so spiegare ma è proprio un qualcosa che mi viene dall'interno e mi fa star bene al di là e ce l'hanno detto e ce l'hanno confermato anche tanti pazienti che hanno voluto portarci la loro testimonianza quindi a maggior ragione quello che dici a maggior ragione questo sì 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 e infatti addirittura un altro un altro paziente che suona la batteria suonava la batteria in un complessino in un complesso è ritornato a suonare la batteria e anche tutti i suoi compagni di musica hanno proprio visto la netta differenza tra prima e dopo riuscito a ritornare a coordinare nuovamente cosa che gli volevano quasi dire guarda lascia stare perché non non può insomma ormai era diventato un qualcosa che strideva all'interno del del complesso e invece con gondola è ritornato a fare le sue serate sono stati tutti molto contenti lui per primo immagino e poi ricordiamo anche sempre tutti i familiari attorno a queste persone che un po' sono anche la spinta perché il paziente possa decidere anche di affrontare la strada e provare e poi sono quelli a cui il cuore si alleggerisce insieme al paziente assolutamente perché quando vedi una persona che ha una difficoltà estrema a far tutto o quantomeno nelle cose di tutti i giorni ecco non voglio neanche dire sul lavoro che però nelle cose di tutti i giorni ritrovare una sorta di serenità familiare perché ovviamente abbiamo migliorato alcuni aspetti importantissimi perché andare in bagno perché prendersi cura di sé prendersi cura di sé essere più veloci proprio questo rende anche la persona che vive la malattia insieme al paziente ovviamente molto più sollevata e molto più tranquilla e serena ecco certo questo penso sia veramente un apparecchio uso famiglia chiamiamolo così perché comunque giova a tutti a tutti se il paziente sta meglio sta meglio anche le persone che assistono moglie, marito che sia oppure altri i famosi caregiver di cui abbiamo parlato anche altre volte perché quando ci sono i familiari bene ma a volte bisogna ricorrere a persone di assistenza alla chiamata di persone specializzate certo che altri e poi comunque la facilità anche d'uso cioè diciamolo ricordiamolo assolutamente sì sì come abbiamo visto prima nel tutorial però sono davvero 5 minuti tempo di appoggiare i dispositivi collegarli infilarci dentro i piedi e spingere il pulsante ed è finito mentre all'inizio era un po' più complicato adesso avete proprio semplificato l'utilizzo dello strumento il più possibile sì no questo è veramente veramente la gondola che serve serve a casa e che ci dà un veramente un aiuto notevole quando va rifatta cioè quando bisogna rifare la stimolazione col dispositivo allora non c'è un tempo standard il tempo standard è legato al sistema nervoso di ogni paziente per cui ogni paziente ha la sua durata della stimolazione durata intendiamo in giorni certo quindi potrebbe essere due giorni potrebbero essere tre giorni potrebbero essere quattro giorni i test di valutazione che andiamo a fare prima di dire sì ok il dispositivo può essere idoneo il paziente può essere idoneo a questo tipo di trattamento ci servono proprio anche per stabilire ogni quanto andare a ripetere la stimolazione quando vengono a fare i test poi gli si dice teniamo nota e quindi ogni due giorni ogni tre giorni va ripetuto il trattamento prima che tra virgolette si scarichi del tutto ok quindi quando cominciamo a vedere che i sintomi riappaiono facciamo una stimolazione in modo da mantenerci sempre su uno standard da un buon livello e quindi non torniamo più ad avere la stessa sintomatologia perché l'altra cosa che mi riferiscono è proprio la delusione quando finisce che si ritorna a sentire le stesse difficoltà di prima e allora arriva ma è durato solo tre giorni però sono tre giorni per noi è tantissimo se ricordiamo che il farmaco va assunto ogni tre ore come dicevamo all'inizio tre giorni sono infinità però proprio è la delusione a riprendere coscienza del fatto che in realtà il problema c'è ancora sì abbiamo purtroppo il Parkinson lo curiamo non guarisce non sparisce c'è possiamo migliorare veramente tanto e questo è già un miracolo per noi sì grazie Chiara io vorrei approfittare proprio degli ultimi secondi di trasmissione per ricordarvi a casa come fare per mettervi in contatto con il centro gondola è un numero di telefono importantissimo segnatelo 0297070465 ovviamente c'è la clinica anche a Milano resta sempre a disposizione il sito internet www.gondola-medical.com potete scrivere se non desiderate telefonare ma il consiglio e credo che il dottor Tassin in questo sia concorde è di telefonare perché telefonando parlerete con personale esperto che saprà guidarvi nella strada da intraprendere bene allora grazie ai miei ospiti ringrazio il dottor Stefano Tassin grazie Chiara Previati l'appuntamento con Sanità Benessere Oggi come sempre per il prossimo venerdì e vi ricordo che tutte le puntate compresa questa le potrete rivedere sul nostro canale YouTube è appunto di Telestense grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci a tutti